Ciao amici eccoci di nuovo su The Walking Dead io sono Danil ragazzi riprendiamo subito il gioco eravamo rimasti che lì è stato morso gli abbiamo tagliato il braccio e adesso ragazzi siamo in un posto che non si sa dove è riprendiamo subito il gioco allora siamo in una casa che non si conosce le origini questo posto sembra ben sigillato ok fantastico vabbè cosa abbiamo qua che disastro in verità è una scena molto cattiva diciamo molto dura si adesso non stiamo qua a vedere il passato tutto quello che è successo purtroppo vabbè si sono uccisi insieme vabbè cazzo devo dire cerchiamo di uscire fuori da da sto posto qua cerchiamo di andare almeno c'è rimasto un colpo ok un colpo può sempre salvarci la vita ragazzi ok allora andiamo noi andiamo qua dove c'è la porta porta del balcone intanto gli altri stanno controllando ma non penso che c'è qualcosa di utile usciamo cosa dobbiamo cioè dove vuoi andare tipo beh presumo che marito e moglie tenevano dentro fucile mitragliatore fucile a pompa c'è solo una pistola con un colpo ma sei serio che voglia che devi salire su lì sei senza una mano caro mio attenzione quello che fai io avrei urlato dal dolore la pestate come se non ci fosse un domani cercate di fare piano e di fare un bel salto se no sotto c'è un bel buco dove voi potete morire bravi adesso Kenny Kenny mio caro Kenny dai uuuuh l'hai rischiata grossa caro mio muoviamoci fate attenzione qua sopra ok ma non penso che ci sono i zombie sopra i tetti anche perché non penso che sanno arrampicarsi gli zombie sono solo dire aaaah e basta fantastico muoviamoci no non entriamo io oooh Ma se sotto ci sono gli zombie, pirla! È una casa, dentro sicuramente ci sono gli zombie Come quando abbiamo passato il tempo Nelle scuole, nei supermercati, in tutti i posti possibili Che cazzo fai? Eh, adesso non riesci Ma dai, per un cazzo di walkie talkie Ho detto di lasciarlo lì Ma che teste di cazzo Dai, per favore Cos'è sta roba che troviamo qua? Palo Ok, prendiamo E come si servirebbe qualcosa? Ma non riesci, con una mano Tipo, con una mano Stai parlando Ah, punto, infatti Ecco Ecco, ecco Ci sono gli zombie Adesso te o preghi O ti mangiano Eh, ve l'avevo detto che sono lì dentro Dai Ma io avrei saltato come se non ci fossero domani Io e la mia fottuta bocca Che cazzo stai dicendo, Kenny? No, 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 no Anche te No Ma cosa stai facendo? Così dopo te non possiamo tirare Testa di pirla Ma non fare l'eroe Vieni su anche te Prendi il palo Ma no Ma Kenny No, non posso perdere Kenny Ma sta qua potevamo pure lasciarla morire No, dai, per favore Dai, andiamo a salvarlo Ma no Ma no Pure Kenny adesso E' morto Kenny Ma perché? Perché fate ste stronzate? Ho detto che walkie talkie potevamo pure lasciare C'erano lì Andavamo all'hotel E guardavamo se è lì Clem Ma Che teste di cazzo Ma perché? Ma Non si può Non si può Abbiamo perso Kenny ragazzi Che era fra virgolette Il leader del gruppo Quello che Prendeva le decisioni Faceva le cose Già più importanti Quello che ci ha aiutato tantissimo Peraltro Dal inizio del gioco No No dai Un personaggio che Dall'inizio del gioco Fino adesso A parte che ho notato adesso che lì ha cambiato colore Si sta zombificando pure lui Mi sa che tagliando il braccio non è servito assolutamente niente Assolutamente niente Cioè magari ha rallentato un po' la zombificazione però Noi dobbiamo restare al sicuro Per lei Beh qualcuno infatti ci vuole Allora io devo andare da All'hotel Vedere chi l'ha intrappolata Fare qualcosa a lui Ehm E recuperare i clem E poi mandarli da Krista e Omid Sperando di accompagnarla da loro Interi Vivi Senza Niente Dobbiamo attraversare Ehm Questa Cos'è? Quest'insegna Questa cosa qua Sotto ci sono tutti i zombie Minchia Sono tutti ammassati come non so cosa Ma quindi adesso cosa stiamo facendo? Stiamo decidendo chi sta qua Ehm Vado prima io dai Sì appunto stiamo decidendo chi va prima Dai voi state qua o magari scendete dopo di me E vediamo come Come è la situazione ragazzi Allora siamo sicuri? Siamo sicuri di voler far sta cazzata? Non è che c'è un'altra via di uscita? Andiamo Allora andiamo Passa all'altra parte dell'insegna Ok Vai Vai Attenzione che quel robo lì è più arrugginito Di un pezzo di ferro Lasciato lì al sole Sotto la pioggia Vai Quasi fatta Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Dai che regge Dai che regge Dai che Porca troia Vai 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 Minchia no Non regge per niente Guarda sono ancora vivo Sto per cadere da un'insegna Per te Che hai intenzione di fare? Guarda mi butto giù Cosa vuoi che faccio qua? Testa di cazzo O sto su Così Così come un pirra O scendo giù E qualcuno Deve venire incontro Oppure Clementine Se la caverà molto male Molto male da sola Tutti sti zombie qua Vabbè Vabbè Cosa devo dire? Sta succedendo un sacco di Cioè si stanno Complicando veramente Tanto le storie Ragazzi E mi sta Cioè sono molto curioso Di come andrà Alla fine Va bene ragazzi Telo qua questo video Di The Walking Dead Spero che il video vi sia piaciuto O soprattutto vi siete divertiti Attivate la campanellina Delle notifiche Perché pubblichiamo Sempre Nuovissimi video Fantastici ragazzi Tra cui ho iniziato a pubblicare Pure video In Downhill Se il gioco vi è piaciuto Like Commento E noi ci vediamo Alla prossima Sopravvivenza zombie Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi